Un cordiale e buon pomeriggio dall'Ippodono di Agnano, giornata splendida, primaverile e anche un po' oltre, salutiamo e ricambiamo Lele e Mario che ci faranno compagnia per tutto il pomeriggio, come qui, come al solito, lo special Emilio. Tre anni sul miglioro, ancora il 18 azzurro di Imar, dopo l'ultima mere candante, Peppe Ruocco, insalchi, il più gettonato. Arretrati il 7 lotto, Asia e Argo Jet. Si chiudono le ale e si lotta tra Bugs Life, Avantopia e Akira Font. Stanno passando Avantopia e Akira Font e così vanno al comando. Il 2 subito a tabellone. Si completa il lancio in 14.3, chiede strada Gallucci, ma risponde ancora bene il giovane lungo e gli rientra completamente. Si completa anche la piegata, ma insiste Font con Gallucci. 29 scarsi, è passata, si distende alla grande, questo Felix del Nord e va al comando. Viene via l'11 di American Dante, che risale subito la comitiva e va sui primi. 43.9 da 1.13 e 2, American Dante si imbatte su una Chira Font che fa andatura. Si completa il mezzo miglio iniziale, mezzo miglio in 59.5, 15.6 di frazione. American Dante vorrebbe parcheggiare per riprendere un po' fiato. La cosa avviene ai 700 finali. Chilometro a lei, a lei, a lei in questa categoria in 14.9. 500 alla meta, il Felix del Nord affidato a Gallucci in vantaggio. I cavali affrontano la curva finale. La frazione di fronte se ne va in 15.4, 1.33, tre quarti di miglio. Si affaccia American Dante, ma Akira sembra ancora controllare the situation, anche se è sostenuto. Retta d'arrivo, riprende netto vantaggio, se ne va la grande Akira Font. Mentre viene via la grande il 7 di Asia OP, sull'altro OP che è Avant. Mentre Akira Font vince su American Dante, per il terzo è il numero 7 di Asia OP. 2.1.2, 1.15.8, niente male. Questo Felix del Nord e della Gigafarm di Farina, Massimo Finetti e Panico al training. In Sarchi c'è lui, Romeo Gallucci. Oggi, senza sbavature, essenziale e fondamentale. Ci rilano a leggere anche la quota, 3.52. Bene American Dante, che ripete l'ottima performance. Bene anche questo di Tufano, quest'Asia OP, sull'altro OP. È tutto per il momento. Linea allo studio. E' un consiglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.